Si chiama fattore campo e può decidere le sorti della partita, spesso a vantaggio di chi gioca nel proprio stadio. Il viaggio di Vito Romaniello ci porta negli stadi italiani e nelle loro città, all'insegna del genuino calcio pane in salame. In mezzo alla pianura, ovvero Medellan in celtico o Mediolanum in latino, da medio e planum, è l'origine del nome Milano. In un quartiere sulle rive del fiume Olona ci sono i resti della chiesa di San Siro, che dà il nome alla zona, è lo stadio dove giocano Milan e Inter. Milano, la cucina milanese è buona e poi Milano ti offre, penso, tutti i tipi di ristoranti, tutti i tipi di culture, quindi c'è un sacco da sperimentare. Giampaolo Pazzini è uno dei tanti calciatori che hanno giocato nelle due squadre di Milano, città dove la cucina è influenzata dalle diverse tradizioni di chi ci è passato nella storia. È un locale che risale al 1284 come locale storico. Gemma Bosoni ha gestito per 30 anni il ristorante più antico d'Italia, secondo in Europa, l'antica trattoria Bagutto. Questo posto anticamente era un incrocio di strade dove si fermavano a fare sosta da beverare i cavalli e non è mai cambiato, è sempre stata una locanda. Il viaggio di Italia Football Club nei luoghi dove i sogni diventano realtà, dove i bambini sono cresciuti con un pallone tra i piedi e sono diventati uomini giocando a calcio. Lo stadio di San Siro, il quartiere in cui sorge, è un impianto voluto nel 1925 dal presidente del Milan, Piero Pirelli. Si trova vicino all'ippodromo per il Trotto, ha una capienza di 35.000 posti ed è la Casa dei Rossoneri. Il 19 settembre 1926 l'amichevole Inter Milan 6-3 inaugura lo stadio, acquistato dal comune nel 1935, che lo amplia e realizza quattro curve di raccordo con le tribune. Dalla stagione 1947-48 lo stadio di San Siro ospita anche le partite casalinghe dell'Inter. Qui brilla la stella di Giuseppe Meazza, considerato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. L'attaccante nerazzurro, 408 presenze e 283 reti, muore nel 1979. L'anno dopo gli viene dedicato lo stadio di San Siro. È soprannominato la Scala del Calcio, naturale in riferimento al prestigioso teatro del centro città ed è il più capiente d'Italia, con oltre 75.000 posti a sedere. Ha ospitato partite del Mondiale 1934, del Campionato Europeo 1980 e della Coppa del Mondo 1990, quattro finali di Coppa Campioni Champions League e altrettante di Coppa UEFA. È il quinto stadio in attività più antico d'Italia, dopo quelli di Genova, 1911, Venezia, 1913, Catanzaro, 1919 e Parma, 1924. Con il Milan, dal 1999 al 2012, Gennaro Gattuso vince in Italia e in Europa. Emozionante il suo addio a quei colori che gli hanno cambiato la vita. Per me è stato un sogno. 13 anni non sono pochi. Quando indossi la maglia che si dà bambino, è tifato. È stato davvero un grandissimo sogno. Milano, nella rosa campione del Mondo 2006. In mezzo a cinque calciatori del Milan, ce n'è uno solo che arriva dall'Inter. Tutti i pazzi per Materazzi! Il difensore Marco Materazzi. Tutti i pazzi per Materazzi! Dieci anni trascorsi nell'Inter, dove vince cinque scudetti consecutivi, compreso quello del triplete. La realizzazione di un sogno è quello di giocare nello stadio uve del mondo che è San Siro con l'Inter. Tantissimi ricordi, tantissimi trofei e tantissima amicizia. Ogni volta che ritorno, al di là del fatto che si possa ricordare quello che si è fatto, si continua ad avere un'amicizia che non è normale, non è semplice nel calcio, ma noi, essendo stato un gruppo veramente forte, queste cose le abbiamo dentro e sono contento di poterle coltivare anche nel tempo, anche dopo tantissimi anni. Lo stadio, la casa di una squadra, il cuore di una città. Vito, lo stadio! Vito, lo stadio! Il viaggio di Vito Romaniello, dietro un pallone che rotola, continua.